Sono Giordana Olivini e insieme alla mia famiglia negli anni 2000 abbiamo deciso di ripercorrere le orme del nonno paterno ridando vita all'azienda vinicola Famiglia Olivini, situata nel cuore della zona di produzione del Lugana Dock a San Martino della Battaglia. I nostri vigneti sono prevalentemente vitati a Trebbiano di Lugana e siamo consapevoli della grande particolarità del nostro vitigno e per questo motivo il nostro desiderio principale è rispettare il nostro terreno e i nostri vigneti. Abbiamo coniato da alcuni anni un termine che racchiude la nostra filosofia aziendale ossia utilizziamo il termine agricoltura ragionata. Agricoltura ragionata per noi significa intervenire il meno possibile all'interno delle nostre vigne, vogliamo entrare in punta di piedi nei vigneti cercando ovviamente di intervenire laddove vi sono le necessità a seguito magari di grandinate o di fenomeni atmosferici molto forti che caratterizzano appunto l'agricoltura ma riduciamo al minimo e cerchiamo sempre delle soluzioni il più naturali possibili al fine di rispettare il nostro bagaglio territoriale. Sono Graziella Olivini ci troviamo nel nostro showroom ad assaggiare il nostro Lugana e tutti gli altri nostri vini non solo bianchi ma anche rossi. Siamo in un ambiente molto familiare perché noi ci teniamo molto a far sentire i nostri clienti a proprio agio farli sentire in un salotto, salotto di casa. Sono Camilla Guigi e oggi vi voglio presentare un Lugana DOC 2019 di Famiglia Olivini. Nel calice si presenta di un bel giallo paglierino con riflessi verdolini. Il bouquet è elegante, netto, verticale, con sentori di agrumi, agrumi dolci come lime e pompelmo rosa. Tocchi minerali e un po' di fiori bianchi. Il gusto è fresco, piacevole, con una discreta sapidità. ritorno. Ritornano poi i sentori agrumati e una finale leggermente ammandorlato. Lo trovo perfetto in accompagnamento con crostacei e piatti a base di frutti di mare. Vi aspettiamo in cantina per farvi conoscere da vicino la nostra storia e la nostra realtà. Grazie.